Nel Salernitano prende il via la nuova fase vaccinale, le località turistiche protagoniste della campagna di immunizzazione. Dalla costiera amalfitana a quella cilentana si moltiplicano le iniziative in vista della stagione estiva per accogliere in sicurezza i turisti. A Pollica via libera la somministrazione delle fiale Johnson & Johnson dai 18 anni in su. Questa settimana con oggi abbiamo la vaccinazione a tutti, dai over 18 in poi cominciamo a vaccinare i giovani, quelli che in questo momento rappresentano una categoria più mobile che può essere utilizzata in modo più attivo dal virus per continuare a circolare. Quindi ci abbiamo verso un'estate più sicura, lo facciamo nel migliore dei modi e spero in una grande adesione, sono certo che sarà così e finalmente avremo un'estate non stop, tutti in sicurezza, verso una bellissima stagione estiva. L'altro fronte aperto è quello delle aziende. I sindacati spingono affinché si acceleri nella tutela dei lavoratori, dopo il patto tra ASL e Confindustria. Lo si è fatto nel settore dell'agricoltura, lo si farà nei prossimi giorni nel settore alberghiero turistico della ristorazione e poi passando in maniera poderosa, sempre che siano disponibili i vaccini ovviamente, nelle realtà aziendali.